Good Year Dunlop ha ruolo a giovani laureati da inserire in diversi settori e insegna loro la professione attraverso un progetto di 12 mesi. Stiamo lanciando una nuova edizione di un progetto dedicato ai neolaureati che si chiama Startup e volto appunto a costruire quindi lo startup professionale di questi 5 neolaureati. Da inserire in ambito Sales, Marketing o Finance e Supply Chain. È un programma di 12 mesi che rivedrà inseriti in un contratto a progetto quindi non in stage e ad ognuno di loro verrà assegnato un project work da sviluppare all'interno dell'organizzazione con naturalmente l'ausilio di un tutor e svolgere quindi poi questo project work. Più che l'area di formazione e la laurea contano le doti personali. Abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni che la provenienza proprio degli studi fa la differenza al 50% e il restante 50% se non anche il 60% la fa la persona. Abbiamo visto che le classiche attitudini ricercate dalla flessibilità, la capacità anche di assumersi responsabilità sempre crescente, l'iniziativa, sono caratteristiche e attitudini fondamentali. L'azienda americana specializzata nella produzione di pneumatici offre la possibilità di una carriera internazionale. Dopo una prima esperienza italiana anche per la conoscenza del settore e del mercato si ha l'opportunità poi di partecipare a dei programmi un po' più di carattere internazionale o ad avere proprio degli international assignment direttamente all'estero. Il percorso di crescita professionale viene pianificato in base alle propensioni personali. Disegniamo per quanto possibile un percorso. Ad esempio questo che parlavo poco fa del progetto dei 12 mesi. Orientativamente noi ci diamo una tempistica di 18-24 mesi in Italia o all'interno del ruolo che comunque sta ricoprendo per poi fargli degli assessment di orientamento e poi indirizzarli in quello che è il loro ambito professionale idoneo e di ruolo poi, un po' di crescita professionale. Gli aspiranti candidati possono consultare il sito aziendale dove troveranno informazioni su come inviare il proprio curriculum. Si può effettuare l'application online sul sito direttamente oppure inviare la candidatura a HR.it.